Quando le lacrime sul suo viso furono ormai asciugate, Sara decise di rientrare in casa, accompagnata dal fratello per salutare Vittorio. Non ci fu bisogno, Vittorio corse incontro entrambi, buttandosi tra le braccia della madre. Non era triste, sapeva che si sarebbe trovato molto bene in compagnia dello zio, ma era ovvio che una parte di lui avrebbe sentito la sua mancanza. Ciao mamma! Sul volto della madre era sparita l'ansia e la tristezza e le uniche lacrime che avrebbero potuto scendere ora erano lacrime di felicità. Lacrime di felicità dovute alla dimostrazione d'affetto di Vittorio. Ciao Vittorio, promettimi che farai bravo, disse Sara guardando con un mezzo sorriso il fratello. Promesso, rispose Vittorio, alzando lo sguardo verso la madre. È solo una settimana, passerà in fretta, vedrai. Andremo a fare lunghe passeggiate per i boschi, non ti annoierai, te lo garantisco, disse Riccardo, intromettendosi nel discorso, intromissione alla quale il piccolo Vittorio rispose con un sorriso. Parani rimase seduto su quella poltrona, sguardo fisso nel nulla. Si mise le mani nei capelli scrutando il soffitto, come a voler implorare a qualche divinità un poco di clemenza nei suoi confronti. Era spacciato, lo sapeva, ne era consapevole. Di lì a qualche settimana lo avrebbero trovato con la gola tagliata in qualche fosso, o impiccata a un albero, o avrebbero ritrovato il suo cadavere carbonizzato all'interno della sua bellissima automobile. Il suo creditore aveva l'imbarazzo della scelta, l'aveva già fatto in passato, con altra gente. Ne era sicuro. Lui sarebbe stato il prossimo della lista, a meno che... Un'idea gli balinò nella mente. Un'idea che mosse la sua mano, prima ancora che quella stessa idea fosse ben chiara nella sua mente. La mano destra si tolse di scatto dalla sua testa perennemente laccata e afferrò il telefono. Al quarto squillo lei rispose. Elena? domandò in balia dell'agitazione. Sì, Francesco, sei tu? Sì, sono io. Ascoltami, puoi parlare? Sì, sì, ho poco tempo, ma per ora sono sola. Dimmi tutto. Ascoltami, Elena. Non sto scherzando. Ho bisogno che tu prenda molto seriamente questa mia proposta. Ok? Elena, dall'altro capo della cornetta, iniziava a essere leggermente spaventata. Ascoltami, Elena. Tu fuggiresti con me? Dall'altro capo della cornetta non arrivò con suono. Elena? Elena? Hai capito la mia domanda? E quell'edificio cos'è? chiese il piccolo Vittorio, indicando con il dito una grossa costruzione posta sul monte d'innanza la casa dello zio. Quello è il carcere di Luzzane. È molto piccolo, dovrebbe contenere meno di un centinaio di persone. Carcere? Imbeccò il bambino. Sul volto dello zio comparve un lieve sorriso. Esatto, una prigione, un posto dove finiscono i cattivi, i delinquenti. Nella mente del piccolo Vittorio Balinò un'idea. Un'idea strana ed assurda, ma non per un bambino di sette anni. Anche i mostri? chiese il piccolo. Il sorriso di Riccardo si trasformò in una leggera risata. Sì, sì, in un certo senso. Esatto, anche i mostri? Come quello che ogni sera si nascondeva sotto il suo letto, pronto ad afferrargli un braccio o un piede e a trascinarlo con sé nell'oscurità, nel suo mondo di tenebra. Devi sapere, Vittorio, che Luzzane, ai tempi dell'antica Roma, era una colonia carceraria. Tutti i nostri antenati, con ogni probabilità, erano dei galeotti. Lo zio percepì un'espressione di smarrimento sul volto del nipote. Galeotto significa detenuto, carcerato. Il volto di Vittorio si illuminò. Anche quel giorno aveva imparato il significato di una nuova parola. Zio e nipote continuarono la loro camminata per il bosco, fianco a fianco. La luce del sole di mezzogiorno, che filtrava tra le foglie degli alberi, trasmetteva entrambi un senso di pace e armonia. Era da molto tempo che Riccardo non provava quella bellissima sensazione di tranquillità che quel bosco gli trasmetteva. Paradossalmente, infatti, nonostante avesse un così fantastico bosco portata di mano, proprio fuori casa sua, quando voleva rilassarsi, preferiva stendere una coperta sul suo prato e prendere il sole. E fu così che zio e nipote continuarono a camminare lungo il sentiero, circondato da maestrosi alberi e accompagnati da cinque tiri uccelli. L'auto di Sara viaggiava a velocità sostenuta, diretta verso la casa della sua amica Monica. Monica, che abitava a Tessine, paese confinante con Luzzane, si era offerta di ospitarla per quell'intera settimana, fornendole tutto il supporto psicologico necessario ad affrontare la separazione dal marito. E Sara, profondamente nervosa per l'intera situazione, continuava, come un tic nervoso, a guardare nello specchietto retrovisore. Strada, specchietto, strada, specchietto, strada, specchietto. Come se non fosse tranquilla, come se presagisse che qualcosa di dietro si sarebbe compiuto da lì alle prossime ore. Una parte di lei continuava a guardare nello specchietto proprio per questo motivo. Era tentata di tornare indietro, riprendere il bambino e tornare alla squalita vita di prima? Certo, pur di far cessare questo insopportabile stato di ansia. Ma non c'era nessun presagio scuro. Era tutta suggestione, nera più che certa. E se lo continuava a ripetere nella sua testa. È tutta suggestione. Non appena arriverai da Monica, potrai sfogarti con lei e vedrai quanto ti sentirai stupida per aver avuto questi pensieri. Uno psicologo avrebbe sottolineato come tale comportamento evidenziasse una profonda insicurezza nella stessa donna. Una paura perfettamente giustificata per il tuffo nel vuoto che si accingeva a fare. La separazione. Con Alberto le cose erano andate sempre più peggiorando. Non aveva senso continuare la pantomima della famigliola felice. Via il dente e via il dolore. Ne andava della felicità dello stesso Vittorio. Quanto poteva resistere quel povero bambino a vedere i suoi genitori lanciarsi dietro piatti, basi e altra roba contundente?